ma bentornati su whatsapp economy oggi riprendiamo la serie sul futuro ho già fatto un video dove cercavo di smontare le tesi di casaleggio per cui nel 2054 non lavoreremo più tramite dei metodi originali utilizzando anche la matematica finanziaria e secondo me era qualcosa di interessante e diciamo in un certo senso anche originale ma a qualcuno non è piaciuto e quindi siamo qui a smontare di nuovo le tesi di casaleggio nella mia vecchia maniera quindi prendendo singoli spezzoni del video e vedendo se sono veri o meno così siamo tutti contenti quindi iniziamo anzi no prima di iniziare una tesi classica e forse anche ormai un po banale contro l'idea che nel futuro non lavoreremo più e c'è quella del ludismo il ludismo movimento che nasce alla fine del 1700 e deriva dal nome di ned lud un personaggio iconico e forse mai esistito che si dice che fu uno dei primi a rompere queste nuove macchine utensili per tessere il cotone il movimento ludista si ripropone durante tutto l'arco del tempo dal 1700 in poi proprio con quest'idea che le macchine sostituiranno il lavoro umano creando dei problemi enormi all'economia peccato che non ci hanno mai azzeccato quest'idea ludista è molto affascinante e ci sono cascate molte persone tra cui alcune molto famose tra cui John Maynard Keynes che in questo saggio possibilità economiche per i nostri nipoti definisce proprio un termine che si chiama disoccupazione tecnologica e dice proprio che tra cent'anni questo libro è scritto nel 1930 definisce che tra cent'anni la prima preoccupazione dell'uomo non sarà quella economica magari approfondiremo più in dettaglio questo saggio in un altro momento però anche economisti molto famosi sono cascati a quest'idea che ovviamente non è mai non si è mai realizzata fino ad adesso e magari non ci sono tuttora delle delle ragioni solide per cui debba avvenire proprio adesso fatta questa parentesi iniziamo il fattorino passando dalla consegna a piedi poi a cavallo poi in bici poi in motorino e poi con un camion aumenta la produttività consegnando più pacchi nello stesso tempo ora è iniziata una nuova era quella della produttività infinita gran parte del video di casaleggio si basa su questo concetto della produttività infinita che distrugge lavoro umano è bello sentir solo dire produttività infinita peccato che in economia non ha alcun senso ed è impossibile ottenere una produttività infinita infatti casaleggio riesce a spiegare anche abbastanza bene ma in modo descrittivo cosa è la produttività lo abbiamo visto all'inizio del video ma non definisce precisamente in maniera analitica cos'è la produttività infatti in economia ci sono più modi per calcolare la produttività in descrizione vi lascio un documento che ne riassume alcuni brevemente si può spiegare cos'è la produttività tramite un rapporto tra beni prodotti e beni utilizzati per la produzione di questi prodotti la formula riassume il concetto y sono i beni prodotti l è la quota di lavoro umano impiegata per produrre questi prodotti mentre k è la quota di capitale ad esempio i macchinari utilizzati per la produzione se noi poniamo il caso che la fabbrica è autonoma quindi eliminiamo la componente di lavoro umano comunque la nostra produttività non è infinita è vero c'è stato un aumento della produttività perché prima impiegavamo per produrre gli stessi beni due lavoratori e un macchinario mentre adesso impieghiamo solo un macchinario per produrre gli stessi beni ma questo non vuol dire che la produttività è infinita in più è bene sottolineare che non basta eliminare i lavoratori per aumentare la produttività infatti di nuovo se torniamo nella formula se eliminiamo i due lavoratori ma introduciamo nella nostra produzione altre due macchine vediamo che il rapporto rimane costante perché per produrre gli stessi beni abbiamo impiegato tre input che in questo caso sono semplicemente tre macchinari per aumentare la produttività quindi c'è bisogno del progresso tecnologico che ci faccia o aumentare la produzione di beni a parità di lavoro e capitale oppure ci faccia produrre gli stessi beni ma utilizzando meno input c'è meno lavoro e meno capitale solo in questi casi si hanno delle degli aumenti di produttività ma la produttività infinita non esiste durante il novecento si afferma un principio applicato inconsapevolmente dagli stati ogni qual volta la produttività decubblica il tempo lavorativo viene limitato di un quarto attraverso la scuola dell'obbligo la pensione le ferie e altri strumenti identificati dai governi qui si vuole far intendere qualche tipo di correlazione tra aumento di produttività e diminuzione delle ore di lavoro e visto che la produttività diventa infinita sicuramente le ore di lavoro diminueranno secondo il suo ragionamento ora può essere anche vero io essendo più riposato posso essere più produttivo ma da qui ad affermare che c'è una correlazione così stretta tra produttività e ore di lavoro è un errore madornale infatti il fattore principale per un aumento della produttività e il progresso tecnologico che è avvenuto dal 1700 ad oggi invece le ore di lavoro che sono state ridotte durante tutto l'arco della storia dal 1700 ad oggi sono dovute principalmente a dei diritti sociali che ci siamo autoimposti e non perché la produttività è aumentata allora noi abbiamo man mano diminuito le ore di lavoro quindi sostanzialmente non sta dimostrando nulla perché non c'è una causazione così stretta tra produttività e ore di lavoro ma l'aumento della produttività preoccupa gli economisti che teorizzano una possibile fine del lavoro di massa no nessun economista è preoccupato dello troppo aumento della produttività visto che l'aumento della produttività è collegato all'aumento della ricchezza di un paese quindi sostanzialmente no nessun economista serio ma andiamo avanti nel 1964 il comitato della triplice rivoluzione composto anche da due nobel propone il reddito minimo garantito reso possibile dall'economia dell'abbondanza se si guarda la struttura del discorso come è composta si capisce come casaleggio voglia far intendere che questa tripice rivoluzione sia composta da economisti tra cui due nobel in realtà non è così infatti se si vanno a guardare gli componenti che hanno fatto parte di questa organizzazione sono fanno parte principalmente un gruppo di socialisti dichiarati socialisti tra cui soprattutto politici e sociologi nel 1964 la triplice rivoluzione per due computer in croce che hanno visto funzionare hanno ipotizzato la disoccupazione di massa a causa dell'automazione e quindi hanno inviato questa lettera al presidente degli stati uniti di allora che hanno proposto appunto lo strumento del reddito minimo garantito per tutti insomma stessa storia ludismo anni 60 in salsa americana inoltre i due nobel citati nel video sono un economista che ha vinto appunto il nobel dieci anni dopo questa triplice rivoluzione per degli studi che non hanno avuto nulla a che fare con il progresso tecnologico e in più anche un chimico e poi basta citare primi nobel a caso non rendono qualsiasi tipo di ragionamento più intelligente o meritevole d'attenzione carrie mollis ha vinto il nobel per la chimica e pensava di essere stato rapito da degli alieni e come mollis ci sono tanti altri casi di nobel che avevano delle idee strane questo perché i primi nobel sono appunto delle persone che possono commettere i propri errori pensare in modo strano in determinati ambiti e avere dei propri bias anche dei bias politici che possono far distorcere un proprio pensiero comunque non rendere qualsiasi ragionamento meritevole d'attenzione o più intelligente la legge di redistribuzione del reddito tra capitale lavoratore perde di valore la maggiore produttività inizia ad andare esclusivamente a vantaggio del capitale lo stipendio del lavoratore rimane quasi mutato come ogni video farlocco che si rispetti non c'è alcuna fonte per verificare i dati e anche nel grafico non sono specificate cosa indicano quelle linee dal discorso si intuisce che la linea blu indica la remunerazione del capitale mentre la linea rossa indica la remunerazione del lavoro cioè gli stipendi il discorso di fondo sembra essere questo e cioè che grazie alla tecnologia i capitalisti si stanno arricchendo a discapito dei lavoratori facendo un paio di ricerche ho scoperto dei grafici molto simili a quelli indicati da casaleggio dove però la linea blu non è la remunerazione del capitale bensì la produttività quindi sono andato a costruirmi il mio grafico andando a prendere come campione gli stati uniti che sono un buon campione per rappresentare il mondo intero sono andato a prendermi la produttività totale dei fattori che è un metodo per calcolare la produttività e il salario medio dei lavoratori americani il grafico sembra effettivamente essere simile due indizi fanno una prova quelle in blu non è la remunerazione del capitale bensì livello di produttività del mondo dell'europa degli stati uniti solo dio lo sa in più se andiamo a leggere le note delle statistiche del salario medio del lavoratore americano che ho preso io si può vedere come questa statistica non comprende gli stipendi dei lavoratori con partita iva o anche degli imprenditori o dei proventi finanziari quindi diciamo che non è una statistica che rappresenta al meglio la realtà a mio avviso è meglio paragonare la produttività con il pil pro capite perché come abbiamo già detto prima c'è una stretta correlazione tra produttività e generazione di ricchezza vediamo cosa succede guarda caso produttività e ricchezza di un paese e cioè il pil pro capite vanno di pari passo e in più abbiamo dimostrato che se un economista vi dice che è spaventato della troppa produttività semplicemente vi vuole impoverire ma il bello deve ancora venire sentite un po il 2 gennaio 2010 il washington post titola che nell'ultimo decennio non è stato creato nessun posto di lavoro negli usa mai successo prima come direbbe uno youtuber più famoso di me a nel primo decennio degli anni 2000 non è stato creato nessun posto di lavoro peccato che questo decennio iniziato con la bolla dot com che poi scoppiata nel marzo del 2000 ed è finita con liman brothers è la crisi economica più grande dopo il 29 quindi il decennio iniziato con una crescita economica più del dovuto all'inizio del decennio è una decrescita economica più del normale alla fine del decennio e quindi la statistica ha subito queste coincidenze economiche che hanno portato appunto a dire che non è stato creato nessun posto di lavoro nel primo decennio degli anni 2000 e quindi secondo suo casaleggio questo trend dovrebbe continuare ma quindi sto dicendo che il washington post è incompetente e qui arriva la parte divertente perché è scritto proprio nell'articolo che ha citato casaleggio che la statistica ha subito queste coincidenze economiche e quindi ha dato come risultato questo aspetto negativo leggiamo che gran parte di quello che è successo in questo decennio è dovuto al fatto che le persone hanno investito i loro soldi in attività troppo rischiose e quindi hanno creato due bolle economiche nello stesso decennio quindi l'articolo ci suggerisce che questa non creazione di posti di lavoro nel primo decennio degli anni 2000 è dovuta alla bassa regolamentazione finanziaria e non alla tecnologia che ruba lavoro alle persone la produttività diventa l'obiettivo competitivo nei 15 anni tra il 1998 e il 2013 le ore di lavoro degli statunitensi rimangono invariate ma il valore prodotto aumenta del 42 per cento pari a più 3500 miliardi di dollari sbagliato infatti la produttività come vantaggio competitivo non nasce negli anni 70 negli anni 90 del 1900 bensì esiste dalla notte dei tempi vi ricordate quando alle medie ci insegnavano la rotazione quadriennale dei campi per migliorare l'agricoltura quello era un esempio di aumento di produttività la divisione del lavoro nella prima rivoluzione industriale anche quello è un esempio di come si può aumentare la produttività l'aumento di produttività avviene sia col cambiamento tecnologico ma anche con l'organizzazione aziendale migliorata ma anche con la formazione dei lavoratori e queste dinamiche aziendali avvengono da molto prima degli anni 70 del 1900 e vengono utilizzate proprio per sopravvivere alla competizione anche qui casaleggio non sta dimostrando nulla se all'inizio dell'ottocento si passava il 23 per cento della vita a lavorare nel 2018 il tempo lavorativo medio nel mondo è di circa il 13 per cento e nei paesi osce anche meno del 9 per cento anche qui c'è un evidente problema di framing il framing può essere spiegato tramite questa immagine gli elementi dell'immagine sono sempre gli stessi ma in base a dove poniamo la nostra attenzione la figura che percepiamo cambia tra coniglio e papera il passo successivo per capire il fenomeno del framing che in inglese significa cornice e capire che la nostra cornice può essere spostata anche a nostra insaputa ad esempio avete deciso di investire e dovete scegliere tra due aziende vi presento la prima e vi dico che avete il 70 per cento di probabilità di guadagno se investite in questa azienda mentre con la seconda avete il 30 per cento di probabilità di perdere i vostri soldi se investite in questa azienda ponendo le due aziende in questo modo vi sto spingendo a investire i vostri soldi nell'azienda a anche se in realtà le due aziende hanno la stessa probabilità di guadagni e perdite il processo di framing è proprio quello che sta utilizzando casaleggio in questa clip infatti un conto e se vi dico che una persona prima di arrivare alla pensione deve maturare 40 anni di lavoro è un altro e se vi dico che spendiamo il 9 per cento della nostra vita a lavorare e quindi visto che veniamo da un 24 per cento speso al lavoro del 1800 un 9 per cento speso attualmente per il lavoro mi sembrerà più facile accettare l'idea che tra 30 anni non lavoreremo più o comunque spenderemo l'un per cento della nostra vita al lavoro il valore aziendale più grande diventa l'accesso ai clienti non più alla mano d'opera o dai che ci siamo la conoscenza e il cliente al centro della produzione e non la mano d'opera poco qualificata e il fordismo come quando negli anni 60 gli agricoltori si spostarono in massa verso le città lasciando che i campi venissero coltivati con le macchine con la differenza che oggi non ci sono nuovi lavori in fabbrica ad aspettarli ma no prima mi fai il discorso sull'attrarre i clienti e adesso mi dici che è un problema se non ci sono più fabbriche come negli anni 60 che poi anche se ci fosse veramente questa migrazione dalle campagne alle città come negli anni 60 ma qual è il problema se queste persone invece di diventare dei metal meccanici potrebbero diventare dei designer o degli ingegneri verrebbero pagati molto di più e il loro tenore di vita sarebbe molto più elevato cioè ci fa veramente così schifo il progresso i lavoratori rimasti nel 2054 sono quelli dove i clienti preferiscono il tocco umano gli atleti gli artigiani gli infermieri professionali per gli anziani e gli amanti c'è una cosa curiosa in questo video e cioè che segue un percorso cronologico dalla preistoria fino al 2054 e siamo arrivati al 2054 con l'automazione delle fabbriche o comunque con un'intelligenza artificiale forte senza mai citare ingegneri o lavoratori tecnici che appunto potrebbero sviluppare queste tecnologie sembra che questi robot siano spuntati così all'improvviso come funghi oppure sembra che ci abbiano invaso dal futuro proprio come terminator ma sì discorsi troppo complicati che ci frega tanto ci saranno gli amanti con il loro tocco umano le persone che guadagnano di più sono quelle che riescono a interagire meglio con l'intelligenza artificiale e con le altre persone ok allora lavoreremo ancora se riusciamo ad acquisire le giuste skill le società completamente automatizzate vengono tassate in funzione del loro utilizzo e premiate per le assunzioni di persone aspetta un attimo le aziende saranno completamente autonome ma possono assumere persone che però non faranno nulla visto che l'azienda è completamente autonoma ma quindi questo lavoro ci sarà o no le tasse sul consumo vengono usate per redistribuire all'interno di una comunità o stato il reddito verso le classi più deboli quindi se non ho capito male non lavoreranno più solo le classi più disagiate che però a quanto si capisce dal video saranno la maggior parte la maggioranza ma non lo so non ci ho capito tantissimo e niente alla fine del video mette anche quel pizzico di comunismo futurista in salsa russo che non fa mai male le reti fisiche e digitali e le identità personali sono di proprietà dei cittadini che hanno sviluppato l'autosovranità e niente ragazzi io sono arrivato alla fine del video spero di essere stato abbastanza chiaro anche se lo stesso non si può dire del video di casaleggio detto ciò lo scenario fatto da casaleggio non significa che sia impossibile ma avendo delle basi poco fondate è molto improbabile questo aspetto spero che sia chiaro nel frattempo io aspetto ancora i vostri scenari e vado a proseguire questa serie sul futuro vedremo i lavori del futuro e altre cosine interessanti e questa serie sul futuro si concluderà con il mio video spiegandovi il mio personalissimo scenario nel 2054 e niente alla prossima ciao ciao Grazie a tutti.